Laura Giombini alla presentazione del campionato italiano di Beach 2017 bei ricordi, l'ultimo titolo l'hai vinto insieme a Marta Sì, sono sicuramente ricordi indimenticabili è stata una bellissima esperienza poter arrivare fino in fondo non è mai scontato e sono molto entusiasta, pieno di entusiasmo per iniziare questo nuovo percorso e niente, staremo a vedere insomma Cosa ti aspetti dal torneo con una nuova compagna Agatha Zuccarelli? Sicuramente sarà un ricominciare da zero ritrovare giusti feeling, giusto equilibrio di coppia però credo che lo stiamo già trovando e sono fiduciosa insomma